Un po' di giorni che avevo in mente di fare due parole su Gennibal, questo manga che ci porta in un villaggio giapponese isolato tra i monti dove a quanto pare c'è una famiglia di cannibali. E quindi ho detto, dai, cogliamo l'occasione, andiamo a dire due parole perché comunque è un prodotto interessante. Io sono Francesco Tognolo, sono un professore universitario, mi occupo di videogiochi, però leggo anche tanti manga, a volte me ne sono anche occupato in pubblicazioni e altro, e quindi perché no? Dunque, farò una prima parte senza farvi particolari spoiler, poi magari nella fine del video un certo punto annuncio e vi dico anche alcune cose sul finale, perché questo manga è uscito, è completo anche qui da noi in Italia, e io tra l'altro l'ho letto tutto dopo la fine della sua pubblicazione e quindi mi sono comprato i vari volumi, in pochi giorni l'ho letto tutto quanto, quindi è stata anche una lettura condensata. Allora, diciamo, fin da subito, Nell'Insieme è un manga interessante, meritevole, vale sicuramente la pena darci un occhio se vi piacciono determinate storie, quindi sapendo che siamo davanti non solo a una violenza visiva, esplicita, ma anche a diverse tematiche abbastanza delicate, siamo davanti di fondo poi a quella che è una storia che alla fine parte come un'indagine poliziesca, poi va a diventare una sorta di lunga riflessione di vendetta e quant'altro, però appunto su questo ci arriviamo tra un attimo. Questo è appunto completo, quindi ve lo potete leggere tutto insieme, e di cosa parla sostanzialmente? Molto in breve siamo davanti a questo poliziotto che viene trasferito in questo villaggio sperduto in Giappone, dove ci sono, abitano poche persone, quindi sembra la classica cosa, non molto tranquilla, che il lavoro del poliziotto che viene a fare, non so, gli uti la vecchietta ad attraversare la strada, dai una mano al contadino che gli si è fermato il trattore, e cose così. Invece poi chiaramente dopo si scopre che c'è sotto qualcosa, e quindi abbiamo tutta una serie di indizi che vengono posti fin da subito sul fatto che in questo villaggio c'è qualcosa di strano. Trovano delle scritte dentro la casa che li invita ad andarsi a prestare attenzione, e poi soprattutto ci sono questi Goto, questa famiglia, questo clan, che vive un po' lontano dal villaggio, vivono sui monti, questa sorta di magione isolata, e tutti gli dicono appunto attenzione a questi Goto. La storia prende poi effettivamente il via quando, mentre il nostro poliziotto si sta ancora ambientando, sta ancora riconoscendo le persone, trovano morta nel bosco la nonna, la matriarca di questo clan dei Goto, che sembra essere stata parzialmente divorata. I Goto dicono subito che è stato un orso, si mettono a organizzare una battuta di caccia, vanno anche effettivamente a uccidere un orso, però c'è qualcosa che il nostro poliziotto trova strano, però in particolare dei segni di un morso chiaramente umano sul braccio della donna, e che non può essersi fatta da sola. Per cui decide appunto di iniziare a indagare, e da qui parte tutto. Quindi questo è in estrema sintesi il punto di avvio di quello che è il primo volume. Poi dopo abbiamo tutta una stratificazione di contenuti, di colpi di scena, scopriamo anche maggiori cose sul passato del poliziotto, sul perché sua figlia, perché lui appunto viene qui insieme alla moglie e alla figlia, perché sua figlia abbia avuto questo trauma passato, tutta una serie di cose che servono anche, come giustamente è un classico espediente narrativo, a tenerli legati al villaggio, a dargli quella motivazione in più per non dire, ok, appena le cose iniziano a farsi un po' troppo problematiche, andiamo via, fuggiamo altrove, chiediamo un nuovo trasferimento, insomma ripensiamo il tutto, perché ovviamente se no la storia sarebbe finita così. Elementi pregevoli e meno delle prime parti, sicuramente molto bella la costruzione dell'ambiente, i personaggi, soprattutto quelli del clan dei Goto, uno in particolare che sarebbe un po' l'erede di questa sorta di dinastia, figure sicuramente molto interessanti. come però succede in realtà in tantissimi manga, nella maggior parte siamo davanti a uno sbilanciamento tra quelli che sono proprio i tempi nella costruzione della storia, nella sua evoluzione, nell'arco di trasformazione dei personaggi. Dicevo perché succede spesso, perché in molti casi siamo davanti a delle pubblicazioni che vengono pensate all'origine con una periodicità che è abbastanza variabile e quindi sì, ovvio l'autore può avere in mente il punto di inizio, il punto di arrivo e tutta una serie di tappe intermedie, ma poi queste possono cambiare molto nei pesi che vengono a essere attribuiti. Ecco e qui siamo davanti proprio a un caso di questo genere, e lo vediamo sia all'inizio sia poi soprattutto verso gli ultimi numeri. Come detto adesso tra poco ne parliamo più in dettaglio. Cioè all'inizio sarebbe stato interessante avere un po' più di respiro, cioè prima di arrivare a tutta una serie di eventi che mettono già tantissima carne al fuoco, perché è vero dopo c'è comunque una progressione, un'aggiunta, ma fin da subito abbiamo tutta questa serie di figure misteriose, c'è anche questa sorta di gigante, di entità, non si capisce se sia un'entità sovrannaturale, se sia semplicemente una persona molto grossa e molto robusta, a cui i goto sembrano obbedire, cioè la morte della nonna, con questo fatto del cannibalismo, tutta una serie di cose, di base le storie di questo genere, cioè nel senso dove siamo in un contesto isolato, lontano da tutto il resto, dove qualcosa progressivamente viene a degradare, oppure si va progressivamente a scoprire, da parte di un membro esterno di solito, tutto ciò che c'è sotto, di marcio, di nascosto, serve di base una costruzione maggiore progressiva, cioè andare per step, perché quando arrivi poi agli elementi più interessanti, anche più inquietanti, se la costruzione presistente è stata ben fatta, è stata corretta, basta anche molto poco, non serve dover andare allora su shock visivi, narrativi, basta mettere quegli elementi che sappiamo che ci inquieteranno, perché si sono stati disseminati progressivamente tutta una serie di indizi. Qui non avviene questa cosa, cioè fin da subito appunto ci troviamo davanti a tutta una serie di cose che portano già molto avanti la storia, e poi dopo nei volumi successivi, quindi va un po' a tornare indietro, quindi è come se, va bene, tutto questo discorso, l'omicidio nel bosco, è stato un orso, è stato un essere umano, ci sono i cannibali, dobbiamo fare un passo indietro e ripartire da quello che è il legame del poliziotto, del protagonista, con gli abitanti del villaggio, che è una cosa che ha a sua volta tutta una serie di interrogativi, di inquietudini, di misteri, che però chiaramente appaiono inferiori rispetto a questo fatto che ci siano potenzialmente una famiglia di cannibali nel bosco, che potrebbero essere i Goto, potrebbe essere qualcun altro, e questo grande mistero di fondo, che tanto viene posto fin dal titolo, cioè il fatto che sia Gannibal, che si venga detto che si parla di cannibali, bastava anche qualche frase, cioè il trovare appunto la frasettina di gli abitanti del villaggio sono cannibali, occhio scappa via, già ci fa capire questa cosa, per cui potevamo andare in quella direzione, come avviene appunto in tante grandi storie di questa tipologia, che troviamo in tantissimi media, detto questo, non è ovviamente quindi che Gannibal sia una brutta storia da seguire, cioè è comunque molto piacevole, si porta avanti con tranquillità, ma effettivamente sarebbe stata una costruzione più interessante, perché andrebbe meno a sfasare tutto questo ritmo, perché poi i rapporti si fanno fin da subito tesi con determinati personaggi, sembra che dopo poche pagine siamo già a un punto di rottura che ci si aspetterebbe molto più avanti, quindi uno poi si chiede, ma che cosa succederà? Allora dovrà continuare a buttare fuori cose? No, come detto, poi invece si va ogni tanto a tornare indietro, si mette il freno e quindi abbiamo questo andamento, queste differenti velocità. Arriviamo comunque fino a più o meno il numero 8, diciamo tra il numero 8 e 9, adesso non ho qui i manga perché non sono a casa, ma sostanzialmente fino a quel punto lì, con questa progressione che va come detto in certi momenti con una velocità eccessiva. E poi dopo allora ecco a quel punto, e qui faccio anche qualche spoiler, quindi se non volete che ci portiamo troppo avanti nel discorso, smettete qui di vedere il video, poi eventualmente lo recupererete quando avrete letto Gannibal, se incuriosisce, così mi dite anche come la pensate a riguardo. Siamo davanti a un punto in cui sostanzialmente la storia è finita, cioè tutti gli archi narrativi sono arrivati alla fine, sembra essersi detto tutto quello che c'è da dire, però manca ancora un po' di volumi. Per cui cosa succede? Succede che probabilmente appunto qui c'è stato uno di quegli spezzettamenti iniziali non previsti, in cui per ragioni editoriali la storia è stata portata avanti più del previsto. E quindi ecco che abbiamo due numeri interi o giù di lì con una serie di lunghi flashback dove vediamo Gingoto, la nonna che era giovane, perché ha fatto tutta una serie di scelte, che cosa è successo, che sono anche delle storie per carità interessanti, ma che tutto sommato non valgono il senso della storia presente, cioè non vanno a dare un elemento di rilievo in più nella comprensione di quello che stiamo vedendo, sebbene vadano sicuramente a mettere in luce quello che alla fine tutto sommato è il tema portante di Genniball, che è un tema non particolarmente originale, cioè è qualcosa che, seppur declinato in tante salse, in tanti modi differenti, troviamo in tantissime produzioni giapponesi, cioè il fatto che in sostanza il nemico è il conflitto stesso, in buona sostanza cosa succede? Che c'è tutta questa serie appunto di pregressi tra i Goto, gli abitanti del villaggio, tutta un'altra serie di figure, ci sono questa sorta di briganti del bosco che sarebbero poi i veri Goto, quelli che portano avanti la linea del sangue principale, comunque queste varie entità che vivono in una serie di vendette, di conflitti reciproci, dove ogni tanto salta fuori una figura che dice adesso io cambierò il sistema, cosa che puntualmente non succede, era quello che a suo modo aveva anche tentato di fare appunto quella che poi è diventata questa matriarca della famiglia, questa Gingoto, senza riuscirci perché poi a sua volta appunto tutte le persone vengono corrotte dal sistema e quindi ecco che ci troviamo davanti anche qui a quello che sembra un nuovo ciclo in cui le uniche possibili uscite che ci vengono poste sono due, quindi o l'annientamento totale di perlomeno una delle due parti, che è quello che la direzione sembra effettivamente quella, cioè dire ok arriva forze di polizia, esercito, migliaia di persone armate e dicono ora i Gingoto vengono, non solo catturati, vengono sterminati, cosa a cui poi alcuni rispondono dei Gingoto dicendo ma tanto la nostra linea di sangue principale va avanti perché l'erede capo clan si è scoperto che aveva messo incinta una donna e che lei aspetta questo bambino e quindi la linea andrà avanti, altre persone sono rimaste in vita, quindi il clan non morirà perché c'è tutto questo discorso appunto sull'importanza del sangue, della linea ereditaria, quindi questa è una delle soluzioni che vengono proposte, cosa che poi alla fine non è quella che va a verificare se essere messa in atto perché alcune persone sopravvivono, l'altra è i giovani, quindi il futuro in mano ai giovani e quindi vediamo questi due bambini, uno che è legato appunto al gruppo degli abitanti del villaggio e l'altro è legato al clan dei Gingoto che vanno come a fermare questa carneficina perché loro sono amici e quindi vanno oltre questo conflitto passato, cosa che è un atto di fede, chiaramente non è questo discorso di speranza, i giovani cambieranno qualcosa, ma sempre nell'ottica che stavamo dicendo, cioè che alla fine il cattivo non sono né i Gato, né una parte di loro, né gli abitanti del villaggio, né questi briganti del passato, e l'idea stessa di un conflitto eterno che va ad autoalimentarsi e quindi un qualcosa di superiore in realtà alle vicende umane, in questo caso legato a questo fatto anche del cannibalismo che porta a tutta una serie, c'è anche una sorta di malattia appunto che aveva la stessa Ghingoto, questa sorta di ghigno che hai da anziano, fatto in un certo modo molto bello, molto caratteristico, come viene presentato visivamente, e quindi è come se avessimo appunto un qualcosa di superiore, di divino, diciamo questo elemento anche della divinità che vediamo anche in questo misterioso uomo, come vi dicevo, che si aggira all'inizio nel bosco, sembra un uomo selvaggio, che va a incarnare appunto una sorta di senso divino, non è un manga sovrannaturale, non ci sono aspetti di questo genere, una storia che può, il personaggio lì è un po' strano, un po' ha il limite, però puoi farlo comunque rientrare in un'ottica terrena, mondana, senza dover scomodare divinità sovrannaturale, alieni o altre cose di questo genere, però appunto c'è l'idea di un qualcosa di superiore che può essere anche il destino che va a continuare ad autoalimentare questo conflitto, e quindi gli ultimi numeri sono sostanzialmente basati su questo, poi abbiamo questo colpo di scena finale a suo modo inutile perché ha buttato lì così, dove a un certo punto ecco che c'è un ricordo di dire, però se torniamo all'inizio di tutta questa vicenda, in realtà nessuno aveva detto il messaggio misterioso, non si era detto attenzione, i goto sono cannibali, si era detto gli abitanti del villaggio sono cannibali, e in effetti all'inizio della storia questo è un dettaglio così su cui uno non presta caso perché anche i goto, sì che ci vengono presentati come questa famiglia particolare misteriosa, ma uno li considera tranquillamente parte degli abitanti del villaggio, poi numero dopo numero capiamo che queste due categorie sono in realtà ben distinte, perché abbiamo sempre avuto questa contrapposizione tra gli abitanti del villaggio e i goto, e quindi ecco che nel finale questa considerazione va a riaprire il tutto, perché sembra che ora sia tutto a posto, che non ci sia più nulla di cui preoccuparsi, ma poi vediamo questa nonnina del villaggio che sta sostanzialmente ciucciando qualcosa come se fosse una caramella in realtà è un dito umano e lì finisce Gannibal, che messo così è inutile perché sarebbe stato molto più interessante andare in un'altra direzione, cioè tenere tutta questa escalation di morte e distruzione che ci porta poi al finale effettivo tenerla un po' più avanti, asciugare un po' e spostarli prima certi flashback se si voleva tenerli perché comunque ok, danno quest'idea, questo senso del messaggio che dicevo poco fa e portare invece avanti un po' di più nel corso del tempo questo fattore anche degli abitanti del villaggio perché anche lì abbiamo se no tutta una serie di ripetizioni anche nel corso del tempo anche nella prima parte che comunque come detto è quella sicuramente più meritevole cioè dove questo poliziotto entra in contatto e cerca di conquistarsi anche la fiducia sia dei goto sia dei militanti del villaggio e non capisci bene appunto se ci sia una differenza tra i due se sia significativa e questo questo colpo di scena così finale è un peccato perché detto così tanto si sa che la storia viene chiusa lì a quanto io so non c'è un Gannibal 2 quindi non c'è un qualcosa che vada a portare avanti questo discorso peccato perché avrebbe appunto potuto essere portata avanti in un modo molto più interessante in quella costruzione progressiva quindi da tutta una serie di piccoli elementi di piccoli indizi che ci fanno capire che c'è qualcosa di strano e anche ci pongono maggiori dubbi su chi siano gli effettivi cannibali se uno se sono tanti sono i goto è un'altra gente è qualcuno esterno è l'uomo misterioso che si aggira nel bosco sono tutti quanti e andare mano a mano a mettere maggiori tasselli perché tanto siamo in un contesto perfetto che infatti appunto narrativamente funziona sempre benissimo cioè un esterno che quindi è palesemente il nostro punto di vista perché anche noi siamo esterni alla storia siamo esterni a quel contesto che arriva lì classico contesto isolato quindi anche con poche influenze dall'esterno pochi modi di comunicare qui ci sono anche delle delle idee corrette sensate sempre all'inizio sul fatto del giustificare come mai tutto ciò sia ancora possibile nella nostra contemporaneità per esempio il fatto che la polizia locale quelli del ovviamente non lì in paese che c'è solo questo nostro protagonista ma quella del del dipartimento insomma del circondario ci sono dentro dei membri infiltrati del clan dei goto e quindi è chiaro che le segnalazioni vengono dirottate sia sempre un modo di mettere a posto le cose di non far scoppiare il bubone di non avere fughe di notizia quindi ci sono tutti gli elementi giusti che vanno in questa direzione con un ripensamento di quello che è l'andamento narrativo della scoperta di questi vari indizi sarebbe stato molto più significativo sarebbe stato veramente qualcosa di forse di irripetibile detto così è un buon manga per chi apprezza questo genere di contenuti sicuramente ho intenzione di rileggerlo a breve tra l'altro quindi comunque in quello è riuscito almeno fino al numero 8 o giù di lì perché come detto è la parte più interessante poi dopo cambia cambia un po' anche il tratto del disegno ma io sul sul versante grafico commento meno perché sarebbe da fare tutto un discorso visivo lo lascio intanto per chi ne sa più di me chi è un effettivo artista e poi perché diventerebbe un'altra cosa ci tenevo però a commentare questo aspetto di Gannibal quindi se l'avete letto questo manga fatemi sapere un po' se vi è piaciuto cosa vi è piaciuto di più cosa vi è piaciuto di meno io come detto aspettiamo un'ultima volta nel complesso è stata una lettura molto piacevole molto interessante soprattutto i primi numeri i primi volumi valgono sicuramente la pena e sarebbe stato bello vedere un po' questo questo ripensamento di elementi che sono già lì presenti poi alla fine ma che vengono poi prima troppo accantonati troppo velocizzati e poi all'improvviso è questo invece rallentamento dove quando sei lì nel momento clou che dici mancheranno pochi capitoli alla fine di tutto perché non immagini cosa possa esserci di più perché un sacco di persone sono già morte sono già lì tutti che si puntano i fucili addosso è la fine di tutto e poi ecco che partono parte questo lungo flashback partono tutta un'altra serie di coli partono dei cani che stanno abbagliando nel circondario spero non si senta la cosa parte tutto questo e quindi dopo invece abbiamo questo eccessivo rallentamento questo stallo in un punto dove ci vuole invece una chiusura perché siamo mai arrivati alla fine di quello che è tutto l'arco narrativo però comunque lettura sicuramente meritevole grazie a tutti Grazie.